Secondo Blizzatropos a Palermo, sei arresti tra mafia e droga, in manette il presunto capo della Noce. Allarmante intimidazione nel frattempo alla madre dello chef Natale Giunta. La Noce è stato il mandamento dei ganci, storicamente nelle cuore di Riina. An esso la squadra mobile e la direzione distrettuale antimafia di Palermo hanno arrestato il presunto capo delle clan della Noce, Renzo Lonigro, 41 anni. In manette per mafia anche Girolamo Albanese e Mario Di Cristina, catturati ma solo per traffico di droga, Vincenzo Cosenza, Alessandro Longo e Giorgio Stassi. E dal mercato degli stupefacenti, oltre che dal tradizionale tappeto di estorsioni ai commercianti, Cosa Nostra avrebbe tratto l'infa vitale, anche per le famiglie dei carcerati. Secondo Radio Mafia, alcune donne hanno protestato per le condizioni economiche, perché con i mariti in eccella sono quasi al collasso. Il Leblitz è scattato oggi cavalca l'onda della prima retata della squadra mobile, cosiddetta Atropos, lo scorso 23 ottobre, quando sono stati arrestati 41 presunti affiliati al mandamento mafioso della Noce. Poi, tramite una catena serrata di intercettazioni telefoniche e ambientali, polizie e magistrati hanno scoperto gli altri presunti appartenenti alla clan, impegnati tra l'altro nello spaccio di cocaina, che sarebbe stata venduta tra i 55 e i 60 euro a grammo. E nel frattempo Natale Giunta, il celebre chef palermitano, che ha denunciato i suoi esattori del pizzo, provocandone l'arresto, ha subito una raccapricciante intimidazione. La madre di Natale Giunta è stata affiancata da un'automobile e da dentro l'hanno minacciata così, ricordi a suo figlio che si sta avvicinando la ricorrenza. Allarmante, infatti, il 12 marzo dell'anno scorso è il giorno in cui lo chef si è presentato ai carabinieri e ha inchiodato gli aguzzini che avrebbero voluto estorcergli denaro. 2.000 euro a Pasqua e altri 2.000 a Natale. Poi, il 27 febbraio scorso, gli arresti, ha messo l'automobile minacciosa sotto la casa della madre del cuoco. Credo più al volere le cose, a essere sicuro.